Pronto? 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 Pronto! Pronto! Ah, ciao, mi chiami papà per favore? Non c'è! Ah, non c'è? No! E dove sta? Sta in giardino! Ah, allora chiamami la mamma! Non c'è! Ah, non c'è nemmeno la mamma? No! E dove sta? Sta in terrazza! E allora chiamami Antonio, tuo fratello! Non c'è! Neanche Antonio? No! E dove sta? Sta in cantina! Ah, e tua sorella? Me la puoi chiamare? Non c'è! Ma dove sta? Sta in bagno! Vabbè, chiamami il nonno allora, su! Non c'è! E dove sta? Sta in garage! Ma che stanno a fa? Mi stanno a cercando!